Benvenuti a questo approfondimento che Dire Donne dedica abitualmente alla salute femminile. Questo mese parliamo di PMA e all'interno dei nostri approfondimenti sanitari siamo ben lieti di ospitare una serie di approfondimenti sulle questioni legali che ci aiuta a comprendere e a conoscere l'avvocato Maria Luisa Missiaggio, esperta di diritto di famiglia. Buonasera, benvenuti a tutti, grazie di avermi ospitato e di poter condividere tematiche così importanti e sicuramente di grande interesse per tutti. Entriamo infatti nel vivo di tutte quelle tecniche che in Italia ai sensi della legge 40 comunque di fatto riscritta da capo non sono ancora ammessi. Abbiamo parlato di utero in affitto, ora parliamo, oggi parliamo di fecondazione terologa per le donne single. Avvocato, come funziona? Giustamente citiamo la legge 40 che vietava completamente prima qualunque tipo di fecondazione eterologa anche a coppie eterosessuali perché il procedimento non era assolutamente, anche conviventi, sposate, non era assolutamente possibile. Poi ci sono state delle modificazioni e per quelle coppie sempre conviventi o sposate e comunque eterosessuali è arrivato il momento di rendere possibile questa fecondazione eterologa se uno dei due fosse stato sterile irrimediabilmente. Quindi c'è sempre questo presupposto necessario per poter rendere legittima la fecondazione. Da questo panorama italiano sono completamente esclusi i single e gli omosessuali creando ovviamente una disparità di genere che porta tutte le persone interessate ad avere un bambino e sprovvisti di questi requisiti importanti come il matrimonio o la convivenza o l'eterosessualità ad andare all'estero in posti europei o extraeuropei dove questo è possibile. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto la Spagna come il paese maggiormente favorevole a permettere alle donne single e anche agli omosessuali di poter accedere alla fecondazione eterologa e da ultimo il 27 settembre abbiamo avuto una timida Francia che ha approvato il primo articolo della bozza consentendo anche a madri single e a omosessuali e a donne lesbiche di poter accedere alla fecondazione eterologa. Quindi l'Italia ancora oggi non consente questa pratica e che cosa succede per chi invece decide di accedere alla fecondazione eterologa all'estero? Noi abbiamo anche casi famosi come Gianna Nannini, Carmen Consoli che sono andate fuori e poi sono ritornate, hanno partorito in Italia ed hanno riconosciuto i loro bambini come madri single. Quindi tornano in Italia queste mamme single e riconoscono il proprio bambino con il proprio cognome. Il padre non compare mai per l'anonimato che viene scelto. Quindi come fossero donne che hanno avuto un figlio, una gravidanza naturale. Esatto. Possiamo dire ad oggi, lei giustamente diceva, la tecnica in Italia e la legge purtroppo non risolve, anzi mantiene delle discriminazioni di genere ma direi anche delle discriminazioni economiche perché solo chi ha i mezzi può andare all'estero? Sì, questo senz'altro anche se queste pratiche non sono così costose come quella invece dell'utere in un affitto i cui costi si aggirano intorno ai 20-30 mila dollari o euro a seconda di dove vengono fatte perché invece costano un costo in Europa intorno ai 3-4 mila euro massimo. Quindi diciamo è vero che la persona piccola o medio borghese magari o la persona povera che ha questo desiderio di avere un bambino e non lo può avere se non è sposato o convivente e non è sterile, chiaramente può avere dei problemi da un punto di vista economico. Ma al di là di questo trovo abbastanza riduttivo e anche illogico costruire una legge che da un lato permette alle persone conviventi e sposate, eterosessuali, sterili di avere questa pratica. Cioè era più logica il divieto to cure, pregresso della legge 40, che invece questa novità, questa integrazione, questa modifica a metà perché da un lato abbiamo le unioni civili e quindi i matrimoni gay e la possibilità del divorzio anche per gli omosessuali e dall'altro abbiamo delle ristrettezze in questo senso e anche per i single che sono effettivamente poco logiche. Fatta con un donatore di seme, se il papà che ha riconosciuto quel bambino decide di ripensarci? Cioè una volta riconosciuto e una volta avuto il riconoscimento di paternità e quindi anche l'accertamento di un DNA non ci si può ripensare. È come se il padre naturale potesse ripensare ad essere padre e a provvedere per esempio al mantenimento e a quelli che sono i diritti del bambino. Deve avere il consenso informato e poi comunque una volta che è inserito all'interno di un protocollo verranno fatti firmare dei fogli con una privacy, con un consenso, un'accettazione che non può prevedere una revoca o comunque ci potrà essere un termine entro il quale tutto questo può essere revocato o meno. Ma insomma dipende anche da ciò che firma il donatore. Forse chissà, se dovesse accadere la giurisprudenza dovrà gestire le novità che inevitabilmente una tecnica così nuova porta con sé. Esatto, questa è una materia nuovissima. Ringraziamo l'avvocato Maria Luisa Missiaggia per essere stata con noi, per averci guidato nella conoscenza di una giurisprudenza che ovviamente dovrà anche affrontare delle sfide nuove che sono quelle che la tecnica e la scienza portano alla società civile e ci diamo appuntamento per una prossima intervista in cui tratteremo un nuovo argomento.